Credo che, voglio dire ai milanesi, ai non milanesi, ai turisti, andate alla scala che sarete protetti. C'è però un po' di timore, forse più del solito? Non lo so, io personalmente ho girato Milano in questi giorni e ho visto una Milano vivace e che chiaramente è una Milano attenta, sarebbe irresponsabile non essere attenti, non segnalare le anomalie, i fatti strani che possono accadere, ma quello che ho sentito è un grande orgoglio di Milano che è capace di rispondere al terrore e al terrorismo. Sindaco, le hanno chiesto di essere arbitro, non giocatore.